Giornata in cui ci hai messo tutto? Diciamo in parte perché tutto bisogna darlo fino a Torino. Si voleva fare la fuga, si voleva partire, provare a fare qualcosa. Purtroppo ho anche sbagliato una curva, è stata colpa mia. Ho forse esagerato nella piega. E niente, è stato un bello spettacolo e ci riproveremo sicuramente. Quando ti rivedremo protagonista? Non lo so, dipende dalla giornata come funziona. Grazie.